Una domenica ricca di sorprese. Alla fine dei 90 minuti con la Fontanivese San Giorgio, con ancora l'adrenalina per quel gol arrivato al 92esimo su rigore, si è rimasti un po' tutti sorpresi guardando la classifica. L'FC Bassano 1903 ha fatto un salto incredibile superando in una sola volta due dirette concorrenti. Il Galliera ha subito la sorprendente sconfitta casalinga contro l'Eagles Pede Montana, che alla vigilia del match era penultima. Mentre l'Union RSV ha pareggiato sempre tra le mura domestiche contro l'Azzurra Sandrigo. Insomma, il Bassano in un sol colpo ha superato due dirette concorrenti e guarda al Badoere, l'unica squadra che non perde colpi. In trasferta i trevigiani hanno vinto di misura 1-0 contro il Tezze. Quattro i punti che dividono il Bassano dal Badoere. Non una distanza incolmabile, ma guai a perdere la concentrazione. Lo scontro diretto è in programma tra due giornate di campionato. Si gioca il 4 novembre al mercante. Fondamentale dunque non perdere punti per arrivare al match clou e tentare la scalata al primo posto, che significa, ricordiamolo, promozione diretta.